Ciao amici del vostro Jumpy, buon anno, buon anno a tutti, buon anno brucerchiato e anche non a chi non è brucerchiato niente, buon 2018, io è meglio che mi metta a dieta perché sennò per me sarà un 2000 cicciotto detto questo, ho fatto questo posto per augurare un buon anno a tutti, finalmente adesso ricominciano di nuovo le partite ci sarà prima il turno di Coppa Italia in settimana e poi ci sarà di nuovo il campionato con la prima giornata di ritorno ma siamo nel mese di gennaio, cosa vuol dire? Che inizia ufficialmente il calciomercato di riparazione che io non amo tanto onestamente, però purtroppo comincia e quindi vi terrò aggiornati anche su quello che succede sugli affari fatti o comunque presunti niente, detto questo, è un brevissimo posto e vi auguro di nuovo un buon anno a tutti che sia veramente un anno perlomeno sereno, diciamo, dal punto di vista personale se poi c'è anche quello calcistico ancora meglio buon anno a tutti, ciao amici, a presto